Salve Quiriti, ben ritrovati in un nuovo video, ci sono diverse novità dal fronte, ben ritrovati in generale, ho passato qualche giorno fuori casa perché mi serviva, poi ieri è stato anche il mio compleanno, chi mi segue su Telegram lo sa, però come qualcuno di voi già saprà sono stato comunque attivo su Instagram, su Telegram, appunto non vi ho tenuto a digiuno almeno su questi due social su YouTube, ci siamo da questa sera, da oggi. E siamo pronti per iniziare, per analizzare quelle che sono le notizie che arrivano dal fronte. Negli ultimi giorni sono arrivate diverse informazioni, iniziamo con un'informazione che è un'ipotesi, che ci arriva da una fonte russa, si parla di un possibile attacco ucraino in una delle tre regioni che stanno a nord-est dell'Ucraina, regioni ovviamente russe. Si parla di un possibile attacco o in direzione Bryansk, o ancora su Kursk, o in alternativa su Belgorod. A dircelo è appunto questa fonte vicina alla Russia, filorussa, si parla più o meno su per giù di 500 mezzi corazzati per questa possibile operazione offensiva, e sono coinvolte due brigate in particolare, si fa nome di queste due brigate, che sono da poco state riorganizzate in brigate meccanizzate pesanti. Si tratta della diciassettesima brigata meccanizzata pesante e della centodiciassettesima brigata meccanizzata pesante. Quindi gli ucraini stanno preparando delle unità, stanno ammassando personale, equipaggiamento, mezzi, per delle possibili operazioni offensive. Abbiamo fatto spesso dei ragionamenti, delle analisi su possibili attacchi ucraini in territorio russo, gli ucraini hanno operato un attacco, lo sappiamo molto bene ormai, ad agosto di quest'anno, in direzione Suza, Kursk in generale. Gli ucraini proprio recentemente hanno operato un'incursione, una piccola incursione, nel territorio dell'oblast di Bryansk. C'è da dire che Bryansk è un territorio, come potete vedere da satellite, pieno di foreste, molto, come dire, selvaggio. Quindi non sarebbe facilissimo attaccare qui, ma proprio per questo gli ucraini potrebbero anche farlo, per l'elemento sorpresa. Elemento sorpresa che è citato da questa fonte sul fattore climatico. Adesso sta arrivando l'inverno, si parla addirittura di neve dalle parti di Kharkiv, c'è in generale, sono arrivate già le piogge, c'è molto fango, il tempo è peggiorato, insomma. È finita l'estate. Proprio per questo gli ucraini potrebbero approfittare, proprio perché è inaspettato, e questa è una delle costanti dell'arte della guerra, potrebbero approfittare proprio di questo fatto, di questa mancanza di aspettativa da parte russa. Quindi i russi devono bene vedere, ecco, per non cadere appunto in una possibile azione di questo tipo. Bisogna capire ovviamente quanti uomini saranno impiegati, 500 mezzi non sono pochi, sicuramente, sono pochi corazzati carri armati, intendo, sono tanti i veicoli corazzati per la fanteria, dipende anche dal tipo di operazione che si vuole fare, dipende dagli obiettivi, non sappiamo veramente niente, c'è solo appunto questa possibilità, perché si parla, si dice, che gli ucraini stiano ammassando materiali, equipaggiamento e uomini in questa grande area, in questa macro area appunto a nord-est dell'Ucraina, più o meno vicino al confine con la Russia. Vedremo insomma quali saranno gli aggiornamenti, staremo a vedere se gli ucraini opereranno degli attacchi, faranno appunto delle azioni verso la Russia. C'è da dire, sicuramente qualcuno di voi lo dirà, ma perché gli ucraini non utilizzano queste unità nel settore veramente caldo, dove hanno più difficoltà. A mio parere c'è anche un discorso di farsi vedere dall'opinione pubblica occidentale, e più in particolare dal potere occidentale, da Washington, dall'Europa, quindi c'è la possibilità che gli ucraini dicano a questo punto, siamo in una situazione disperata, siamo in una situazione difficile, cerchiamo di operare attacchi in territorio russo in modo tale da cercare di smuovere quella che è la situazione interna russa e cercare al contempo di far capire agli occidentali che noi siamo attivi, siamo in territorio russo, eccoci, potrebbe esserci un ragionamento di questo tipo. Non è il ragionamento che farei io, ribadisco, è il ragionamento che posso immaginare che stia facendo il vertice di potere ucraino, comando militare ucraino, insomma, quegli apparati. Vedremo cosa succederà. Detto questo andiamo sul fronte, andiamo nel settore di Kupiansk, qua abbiamo un aggiornamento, abbiamo una geolocalizzazione, i russi stanno operando sempre più puntate offensive verso il settore, la zona proprio di Kupiansk. I russi dopo aver preso le posizioni su Sinkivka, questo villaggio che stava a nord di Kupiansk, a nord-est di Kupiansk, ora i russi stanno combattendo per delle posizioni su Petropavlivka, questa località che sta appunto molto vicino ormai a Kupiansk. L'obiettivo qua ovviamente è Kupiansk, in primis, e in secundis l'obiettivo, non per importanza, attenzione, potrebbe essere quello di cercare di recidere le arterie logistiche che da Kupiansk arrivano verso est e vanno a far affluire per gli ucraini rifornimenti, vettovaglie e altro, il necessario per continuare le operazioni difensive. Quindi i russi stanno operando in questo settore, in particolare abbiamo una geolocalizzazione, abbiamo già visto in questo settore il secondo battaglione meccanizzato, c'è un corazzato, un veicolo corazzato per la fanteria del secondo battaglione meccanizzato della trentesima brigata meccanizzata ucraina che sta sparando sulle posizioni russe. Qua i russi hanno operato un'avanzata di quasi due chilometri quadrati, lo vedete appunto dalla mappa, da poco tempo, se qualcuno di voi se l'è perso, ho inserito i chilometri quadrati quando iniziano ad essere, insomma, importanti, significativi. Quindi i russi stanno avanzando, stanno iniziando ad approcciare la zona di Kupiansk. Detto questo andiamo più a sud, andiamo nel settore di Terni, direzione Liman. Qua i russi stanno attaccando e stanno cercando di prendere delle posizioni ucraine nel villaggio di Terni da nord, dalla località Novosadove. Andiamo un po' indietro nel tempo, i russi dopo aver preso Nevske sono scesi verso sud, hanno preso la località Novosadove e ora stanno combattendo nei soborghi settentrionali della località del villaggio di Terni. Qua in particolare sono presenti elementi di tre diverse brigate ucraine, c'è la 66esima, c'è la 60esima e c'è la 67esima brigata, tutte e tre meccanizzate. In particolare ci sono degli attacchi russi, c'è un attacco motorizzato con motociclette russe che sono sempre più utilizzate dai russi nei loro attacchi, c'è anche un attacco corazzato, quindi con veicoli corazzati per la fanteria, sempre nella zona settentrionale di Terni. I russi sono riusciti ad entrare a Terni dopo veramente tanti 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 mesi. Avevamo visto già a inizio di quest'anno degli attacchi russi su Terni da est verso ovest, ma non erano mai andati a buon fine. Ora pare che i russi siano già all'interno del territorio di Terni. Vedremo anche qui quali saranno gli aggiornamenti, come ho già detto negli scorsi video su questa località, qualora i russi dovessero prendere Terni, Terni di per sé non è importante, ma sarebbe un grande indicatore, un indicatore significativo del fatto che le cose stanno cambiando. Su Terni, ribadisco, i russi hanno sempre avuto tanta difficoltà ad avanzare. Tanta difficoltà, se i russi riescono a prendere questa località dopo mesi, mesi e mesi, vuol dire evidentemente che qualcosa nel sistema difensivo ucraino sta cambiando in peggio. Evidentemente il sistema difensivo ucraino si sta gradualmente, non repentinamente, degradando. Quindi ecco questa è la situazione. Vedremo anche qui quali saranno gli aggiornamenti. Dato questo andiamo più a sud, andiamo nella zona più battuta. Come potete vedere qua abbiamo tante geolocalizzazioni, tanti discorsi, tanta analisi da fare. Andiamo nel settore di Selidove, siamo a sud-ovest di Selidove, i russi stanno continuando a premere verso ovest. Qua in particolare c'è un attacco corazzato russo verso Novo Alexivka, questa località, questo villaggio. C'è un'avanzata di 3 km quadrati. I km quadrati li leggo solo quando mi capita, quindi leggeteli voi, ve li metto a disposizione perché molte persone, ribadisco, me li hanno chiesti. Quindi ecco i russi sono in questa località e stanno continuando. Qua, a differenza di qualche settimana fa, di qualche mese fa, nelle operazioni di avvicinamento a Selidove, dove io personalmente vedevo poca resistenza ucraina, soprattutto lungo la ferrovia, qua i russi hanno incontrato della resistenza. Si vede proprio dal video della geolocalizzazione, ci sono dei bombardamenti dell'artiglieria ucraina. Quindi gli ucraini evidentemente sono più presenti rispetto a qualche settimana fa in questo settore. Però i russi comunque stanno avanzando. Stanno avanzando dopo aver preso Selidove. I russi stanno avanzando anche più a sud dalle parti di Kreminna-Balka. Siamo a ovest di Kreminna-Balka, i russi stanno continuando a spingere verso sud. Abbiamo qua una geolocalizzazione, in particolare gli ucraini stanno bombardando le posizioni russe in questa zona, alberate in questa fila di alberi. Qual è l'obiettivo russo qua? Cercare di arrivare nella parte settentrionale, nel bacino del fiume Vovcia e in generale nell'area di Kurakove. L'obiettivo russo è questo, cercare poi di prendere tutta quest'area e quindi approcciare anche da nord Kurakove. I russi stanno continuando a spingere ovviamente da Maximilianivke e da Ustrivske verso est, avevamo già visto delle geolocalizzazioni nei soborghi più orientali di questa cittadina della località di Kurakove, e i russi ovviamente vogliono arrivare a Kurakove anche da sud. Tra poco andremo a vedere quello che è successo in quest'area, molto importante. Prima però andiamo a vedere le geolocalizzazioni nell'area a ovest di Kostantinivka. I russi stanno continuando a spingere anche in questo settore, dalle parti di Antonivka ci sono dei fanti russi che stanno avanzando in questa zona di case, ci sono proprio delle operazioni di sgombero delle abitazioni di Antonivka. I russi stanno anche avanzando a ovest di Katerinivka. Questa zona è tutta contesa, non abbiamo ancora la geolocalizzazione della presa di questo territorio, ma è probabile che sia ormai in possesso russo. I russi, come dicevo, sono dalle parti di Yelizavetivka, quest'altro villaggio, che sta in questa sorta di valle insieme a Ilinka, Antonivka, tutti questi villaggi. Vedete anche che c'è qua un fiume, in particolare la geolocalizzazione relativa a un attacco corazzato russo su questo ponte, sul ponte, sul fiume Solodka. Quindi ecco questa è la situazione, i russi continuano ad attaccare lungo questa piccola valle. I russi stanno continuando ad attaccare anche nell'area a nord-ovest di Vuledar. Come potete osservare c'è stata una conquista ovviamente nell'arco di 3, 4, 5 giorni, piuttosto significativa, si tratta di 84 chilometri quadrati. Non si vede bene dalla mappa, ma il territorio preso dai russi è relativo in particolare a quasi tutta la località di Maximivka, tutto questo territorio insomma che sta tra Novo Ucrainka, Shakhtarské e Maximivka. Quindi i russi hanno operato veramente un'avanzata importante. E qui si ribadisce l'importanza della presa di Vuledar. Con Vuledar i russi hanno sbloccato un settore, hanno gradualmente sbloccato un settore. C'è un'avanzata che è veramente importante relativamente, sempre lo dico, lo sottolineo, a quella che è stata la storia di questo conflitto in generale. Quindi i russi continuano ad avanzare, in particolare i russi hanno preso, abbiamo già localizzazione su Novo Ucrainka, c'è la certezza che i russi sono in possesso di Novo Ucrainka, c'è la quarantesima brigata Fanti di Marina in particolare, c'è una bandiera russa anche su Shakhtarské e c'è, ultima geolocalizzazione, bandiera russa anche su Maximivka. Qua non sappiamo se i russi abbiano preso tutto il villaggio, probabilmente sì, al massimo la parte settentrionale è contesa. I russi nel frattempo stanno anche attaccando a nord di Bogoia Vlenka e stanno combattendo per il villaggio e per la località di Trudove. Quindi i russi sono molto attivi, gli ucraini stessi lo dicono, c'è un messaggio di Deep State, il messaggio è molto chiaro, Deep State parla della possibilità da parte russa di attaccare da sud verso nord e andare a recidere l'autostrada Donetsk-Zaporizia. Come potete vedere questo è il crocivia autostradale, Donetsk è questa qua, che vedete sulla mappa, e Zaporizia sta qua. Quindi è questa autostrada che fa tutto questo percorso e arriva verso Donetsk. Ovviamente Donetsk è in mano russa, però se ci spostiamo verso di qua vedete che questa autostrada va a far affluire ovviamente i rifornimenti a Kurakove. Quindi l'obiettivo russo potrebbe essere quello, come abbiamo già detto peraltro, di arrivare a questo crocevia autostradale, quindi Costantinopil, Andrivka, queste due località che stanno su questo crocevia. Qua poi verso nord si va anche verso Pokrovsk, quindi i russi veramente andrebbero a prendere un crocevia piuttosto significativo, piuttosto importante per la logistica ucraina. Si parla proprio di logistica in questo messaggio, quindi si dà peso al fatto che i russi ultimamente cercano sempre di più l'accerchiamento delle località degli obiettivi che vogliono. Vedremo insomma se i russi continueranno con questo momentum, che è piuttosto importante. Ribadisco, qualora i russi dovessero chiudere in una sacca tutta questa zona, beh sarebbe un obiettivo veramente importante che non sarebbe solo tattico e quindi sarebbe veramente la prima volta dopo tanto tempo che i russi ottengono un successo comunque di notevole dimensione e non parlo di grandezza territoriale, non c'è solo il territorio in ballo in questo caso. Vedremo, detto questo abbiamo finito, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di quello che abbiamo detto nel video di oggi. Per oggi è tutto, ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto dal vostro Davide.